Lavori di lavori pubblici, andiamo a Pietrasanta dove è partito nei giorni scorsi l'atteso cantiere per il rifacimento del marciapiede lato Monti lungo la via Aurelia nel tratto compreso tra il parcheggio della chiesa di San Bartolomeo e la piazzetta commerciale della frazione. L'intervento doterà di un nuovo marciapiede ma anche di nuove fognature bianche e di un collegamento pedonale molto importante per la frazione di Ponte Rosso e Crociare. L'intervento era stato sollecitato in più occasioni di incontri, il costo è di 80 mila Euro. L'intervento approvato da Anas era slittato in alcune settimane, così come altri interventi a causa dell'emergenza sanitaria. Un impegno che avevamo preso con la frazione, spiega il sindaco Alberto Giovannetti, il transito pedonale sarà così sicuro. L'amministrazione aspettando le indicazioni da parte di Anas, competente per la via Aurelia, per migliorare il sistema di attraversamenti pedonali e mettere in comunicazione il lato Monti e quello mare. Parlavamo di manifestazioni che si devono